Intanto vorrei coinvolgere Ellie Schlein, nome svizzero ma militanza bolognese, per voi è davvero indifferente, come diceva anche Barca prima, di fronte all'emergenza, chi saranno i ministri del prossimo governo? Direi di no ovviamente, diciamo che questo Toto Ministri apre uno step ulteriore rispetto alla stagione che si è appena chiusa del governo tecnico, nel senso che il Toto Ministri, io l'ho visto di sfuggita anche sul suo blog, si parla di Brunetta, si parla anche di Gelmini, mi sembra di Carfagna, sono le stesse persone contro cui in campagna elettorale si sono scagliati compattamente quelli che adesso ci rifilano il solito mantra della responsabilità, però il punto è questo per noi, noi siamo questa base in rivolta, io poi non mi sento di rappresentare nessuno fuorché me stessa, anche perché sono così tante le sensibilità che si sono sentite calpestate e tradite e che si sono sollevate in tutti i territori, che è difficile rappresentarle io stasera, però per quanto riguarda me la cosa sconcertante è stata questa, se d'improvviso l'Italia giusta è diventata l'Italia tutta, qualcuno non ci ha avvertito, se questa Italia giusta adesso comprende anche le persone contro cui si è fatta un'ennesima campagna, poi lì si può criticare una campagna che ad esempio ad avviso di molti è stata muta, però quel poco che ha detto è stata una campagna anti-berlusconiana, voi avete iniziato con un ottimo incipit questa puntata che ci gira il coltello nella piaga perché ci ricorda quanto è stato detto anche in due direzioni nazionali del PD, Michael PDL e adesso ci ritroviamo, guarda caso con il PDL. L'Italia è sotto ricatto, quindi il governo deve nascere, il problema è che deve fare quelle tre co, ci deve restituire le preferenze e ci deve risolvere quattro questioni economici e sociali. E lei è d'accordo su questa inevitabilità? Purtroppo no, io purtroppo devo dire che non sono d'accordo perché dice bene chi come Pippo Civati ci ha avvertito del rischio di ritrovarci le ministri, questi traditori, questi franchi tiratori, probabilmente c'è chi nel PD già voleva dall'inizio che le cose andassero così, il punto è che... Quindi mi scusi, il suo invito ai parlamentari è votate contro il governo di larghe intese? No, io sono molto d'accordo... E ai parlamentari democratici intendo? Io sono molto d'accordo con il segretario che ha parlato prima, lasciarli fare anche perché hanno impropriamente ricevuto delle minacce di espulsione, mi pare che poi sono abbastanza buffe nel giorno della deliberazione di ieri perché ricordano cose antiche come dicevano appunto durante la manifestazione. Il punto è un altro, il punto è che la partita anche noi di Occupy PD, di Reset PD delle iniziative che stiamo facendo in questi giorni, l'abbiamo capito che la partita è persa, la partita della formazione del governo si è persa probabilmente con l'affossamento di Prodi. La partita per noi si sposta su un altro piano, cioè dice bene attenzione a che riportiamo la prossima volta in gita con noi perché il punto è rifondare il partito dalla base e far sì che queste cose, che si superino finalmente queste assurde logiche di appartenenza... Siete pronti? Lo chiedo anche, ho curioso di sentire cosa pensa Ellis Lane, ha appreso che 25 segretari provinciali sono diventati deputati e senatori, più credo 5 o 6 segretari regionali. Dunque, io sono totalmente d'accordo con quello che affermava il Ministro Barca, voglio spezzare una lancia a favore di queste primarie dei parlamentari che effettivamente hanno funzionato forse molto male, ma sono un punto di partenza straordinario per chi difficilmente le ha ottenute perché non le chiedevano inizialmente in tanti queste primarie dei parlamentari, perché cosa fanno? Fanno quello che bisogna fare, scalzare completamente questa logica di appartenenze e di correnti che oltretutto a quelli che stanno occupando i circoli in giro per i territori non appartiene minimamente. Una volta che si scalza quel tipo di appartenenza, noi a Bologna eravamo tutti insieme, avevamo tutte le persone che si sono viste, hanno storie anche molto diverse e siamo uniti nel pensare che il PD non si debba scindere, l'unica vera scissione a cui abbiamo assistito è quella tra una dirigenza sorda al mondo, come l'ha ben definita Concita De Gregorio qualche giorno fa a Ballarò e la sua base, che infatti si sta finalmente muovendo. Questa è l'unica scissione, perché? Perché secondo me chi pensa che ci sia lo spazio per una scissione non considera un fatto che il PD in questo momento è una sorta di una cesta di biglie e chi pensa di poterle dividere per colore sta considerando solo la superficie perché la realtà è che sotto, tra di noi, non siamo ex di niente, quindi i colori non ci sono più non ci si potrebbe neanche più dividere. Ellie, ma è proprio sicura che le primarie, e glielo dice un appassionato sostenitore delle primarie non siano poi un trucco consolatorio. Ti chiamo a scegliere chi deve fare il leader, ti coinvolgo nella contesa per la leadership, e quello è il tuo fare politica, fare la fila alle primarie. Le primarie secondo me fanno una... quelle primarie, le primarie dei parlamentari... Scusa, tanto più che... poi parlano i risultati, no? I risultati sono 101 franchi tiratori, il fatto che i dirigenti che voi avete scelto con le primarie hanno in una settimana cambiato linea politica completamente, soltanto riunendo una direzione che è durata, credo, meno di due ore, perché dovevano sbrigarsi, perché Napolitano gli ha detto siete convocati al Quirinale per la crisi di governo, quindi il cambiamento più importante di linea politica degli ultimi anni è stato deciso in due ore. E allora a che servono le primarie? Le primarie sono state fatte malissimo, ricordiamocelo, sono state fatte in tre giorni, tra Natale e Capodanno, dovendo raccogliere un numero di firme tra gli iscritti esorbitante e impeditivo per molte candidature. Ma qualcuno ha voluto che fosse così? Esatto, però attenzione, perché da qui non si può mica tornare indietro, cioè la prossima volta non avranno, credo, una scusa per dirci, vanno fatte in tre giorni tra Natale e Capodanno, questa è la nostra speranza, però dico anche una cosa, il segnale straordinario che è venuto fuori in questi giorni, che per molti di noi sono stati giorni di depressione, è stato quello che diceva prima qualcuno, moltissimi paradossalmente si stanno avvicinando adesso al partito, moltissimi, ma anche ci danno dai territori, ma anche in altri paesi, stanno prendendo la tessera del PD adesso, non solo il Ministro Barca, dicendo ok, abbiamo visto, è un disastro, cosa possiamo fare attivamente? Il problema, hai due problemi che citava il Ministro Barca, ne affincherei uno solo, quello dell'ascolto, il grande assente è stato l'ascolto, perché ricordiamoci, quello del PD non è stato un funerale in questi giorni, secondo me è stato il battesimo di un ascolto, un ascolto che è sempre mancato e che se riuscirà a riconvolgere tutte queste persone alle prossime primarie darà anche esiti diversi e nella dirigenza spero esiti diversi.